Un atteggiamento carico di assunti metafisici è proprio quello che ritiene sia conveniente e pragmatico ragionare in modo antimetafisico, come se il mondo che a noi appare fosse l'unica realtà effettiva, quando invece il mondo che a noi appare è già carico di interpretazione e rinvia necessariamente a uno sfondo metafisico, perché quello che a noi appare è semplicemente l'apparire e poi l'immediato occultarsi di ciò che di volta in volta si mostra nell'esperienza appaiono configurazioni determinate del mondo, tra parentesi se non fossero determinate a un livello intrinseco non potrebbe apparire la successione tra l'una e l'altra, perché rispetto alla loro differenza ontologica che può darsi l'apparire del variare tra il passaggio dell'una e dell'altra chiusa parentesi, ogni configurazione determinata del mondo appare e poi si occulta ma finisce qui l'evidenza fenomenologica non è evidente che appaia il divenire, tra l'altro è impossibile come ho spiegato in vari video tra cui anche uno degli ultimi ma non è appunto evidente che la realtà manifesta sia in divenire e o che sia un mondo fisico esterno indipendente dal suo apparire coscienziale né è evidente che noi siamo un io empirico o un corpo e basta collocato all'interno di un mondo al di fuori del nostro campo mentale tutte queste idee sono già cariche di presupposti metafisici e quindi non è neutrale partire da questi assunti come se fossero certi e già partire in modo incauto nell'indagine filosofica l'indagine filosofica dovrebbe partire dalla pura neutralità o comunque tentare di partire da quella neutralità cioè appurare ciò che è veramente evidente e distinguerlo dalle congetture che si sovrappongono all'evidenza per poi fare un'indagine scevra da condizionamenti, da bias da presupposti che potrebbero essere nel migliore dei casi infondati nel peggiore contraddittori, sbagliati e quindi portare a risultati ovviamente non corretti falsi ecco quindi l'atteggiamento più caudo sarebbe quello di riflettere in maniera rigorosa proprio sui presupposti da cui si parte per ragionare cercare di sgomberare il campo da tutti i pregiudizi da tutte le congetture come ad esempio aveva proposto Ursel con la riduzione fenomenologica con l'epochè, con la sospensione del giudizio cioè sospendere tutti i pregiudizi di tipo naturalistico e tutte le cose non evidenti cercando di guardare il mondo con uno sguardo puro chiusa parentesi non è come dicevo prima evidente che il mondo sia diveniente la realtà che appare potrebbe essere anche l'apparire e poi il successivo occultarsi di configurazioni eterne e quindi potrebbe essere non solo non evidente anzi non solo non è evidente ma potrebbe e in effetti lo è persino falso quel tipo di interpretazione la realtà potrebbe tra parentesi è secondo l'ontologia severiniana un insieme di stati eterni atemporalmente eterni non eterni nel senso che ognuno esista sempre in tutti gli altri ma nel senso che ogni istante ogni configurazione del mondo è eternamente e immutabilmente se stessa ed esiste ed appare sempre assieme a tutte le altre in una prospettiva di coscienza infinita che sperimenta tutta la realtà insieme in modo super determinato come se il mondo fosse una pellicola di fotogrammi e noi fossimo coscienze eterne ma finite quindi una parte della coscienza infinita che anziché sperimentare tutta la pellicola insieme ne sperimenta una parte alla volta in modo processuale determinando tale esperienza quindi la persuasione nichilista del divenire anche questa parentesi la chiudiamo tuttavia queste parentesi servono per far capire quale sia il problema di fondo cioè che il mondo che appare non attesta immediatamente cosa sia è già frutto di chiamiamole interpretazioni di congetture dove persino l'idea che noi rappresentiamo il mondo e lo pensiamo attraverso delle categorie è ancora frutto di una cosiddetta interpretazione fino a prova contraria cioè non gode di evidenza effettiva né di una dimostrazione rigorosa e incontrovertibile tant'è che non solo non gode di ciò ma addirittura secondo l'ontologia severiniana che invece è caratterizzata dal rigore totale si evince l'impossibilità che noi siamo un io empirico che pensa ed elabora concetti e interpretazioni del mondo e gli fornisce un senso un significato attraverso il linguaggio e che dunque il linguaggio sia uno strumento prodotto della cultura umana e che sia storicamente determinato perché? perché se tutto fosse eterno nulla potrebbe prodursi e nulla potrebbe distrursi distruggersi e nulla potrebbe trasformarsi perché anche trasformarsi implicherebbe l'annientamento o la produzione di un qualche aspetto essente della realtà anche questo l'ho spiegato in vari video vi invito ad approfondire tali questioni chiusa quest'altra parentesi perdonate queste che non sono effettivamente digressioni ma servono comunque sono funzionali per far capire bene tutto il discorso allora cosa saremmo noi secondo l'eternismo severiniano saremmo una struttura di coscienza in cui autoappare il mondo non apparirebbe il mondo a un corpo noi non saremmo un corpo che ha coscienza e che attraverso la coscienza sperimenta il mondo noi saremmo la coscienza lo spazio della realtà in cui la realtà autoappare in una struttura però complessa che permette l'autoapparire del mondo a sé e in sé mediante una triplice forma dell'apparire infatti non appaiono solo le cose ma appare assieme il loro mostrarsi cioè mi correggo appare anche l'apparire del loro mostrarsi e appare anche l'apparire dell'apparire delle cose che però chiude il cerchio non è una struttura che crei un regresso all'infinito ma è una struttura chiusa dove queste tre forme dell'apparire permettono l'autoapparire del mondo a sé e in sé e sono forme co-originarie inseparabili quindi sono distinte ma inseparabili chiusa quest'altra parentesi ecco questo tipo di concezione non è in alcun modo in contrasto con l'evidenza e potrebbe sembrare in contrasto con l'intuizione è vero l'intuizione ci attesta un mondo diverso o meglio ci persuade di un mondo diverso però vorrei far notare che persino nei sogni l'intuizione ci fa credere in modo fortissimo di star sperimentando un mondo reale un mondo fisico a volte e di avere all'interno del sogno un corpo fisico con cui captare gli stimoli esterni attraverso gli organi sensoriali per poi percepire il mondo e interagirvi eppure nel sogno è certo che non ci sia questa struttura e quel tipo di rapporti nel sogno è sicuro che all'interno non ci sia un corpo con cui captare un ambiente esterno ed elaborare stimoli esterni eppure un insieme di qualità sensibili di configurazioni mentali coscienziali ci rappresentano con il loro apparire il loro occultarsi in rapida sequenza una simulazione della fisicità del mondo e del rapporto tra un corpo e il mondo nel sogno è sicuro che si abbia a che fare con l'auto apparire di un contenuto coscienziale in sé attraverso sé mediante sempre quella triplice struttura dunque come dicevo l'intuizione non è fonte di verità in modo certo dipende se nel sogno può ingannarci allora non è detto che quando siamo svegli sia sufficiente per attestare la presunta veridicità di una certa ipotesi quindi non è evidente qualcosa solo perché l'intuizione nostra ci fa credere quello non è sufficiente non è sufficiente e siccome la stessa intuizione richiede per essere valida la struttura originaria non spiego qui il perché ma per il semplice richiamo solo un aspetto qualunque cosa per essere determinatamente se medesima richiede la struttura originaria cioè richiede quella struttura dell'opposizione tra il positivo e il negativo ovvero il fatto che ogni cosa debba essere se e non altro per essere se stessa non potrebbe essere se stessa senza essere determinatamente distinta proprio ontologicamente dalle altre cose e quindi non potrebbe valere neanche come ciò che dovrebbe attestare o meno qualcosa quindi l'intuizione è subordinata alla struttura originaria che non va intesa come una struttura logica concettuale prodotta dalla mente umana perché di nuovo si starebbe presupponendo una certa ipotesi metafisica della realtà infondata ipotetica è confutata dalla stessa struttura originaria che dice appunto quello che ho illustrato prima che chiaramente andrebbe approfondito ma in questo video mi limito a dei richiami altrimenti mi dilungherei troppo ora da da questo discorso segue che il mondo che a noi appare potrebbe in un primo momento essere interpretabile in più modi almeno in due o come realtà diveniente o come realtà eternistica per come prospettato da severino e questi due modi sono in realtà gli unici modi possibili non immediatamente contraddittori altri modi sarebbero immediatamente contraddittori quindi ci sono alla fine solo queste due possibili interpretazioni che non si autocontraddicono subito o che comunque non risultano da subito in errore e sono due posizioni opposte che hanno dei corollari delle implicazioni completamente diverse per vari motivi su vari aspetti per cui non è che non ponendosi il problema metafisico si stia ragionando sulla base di una neutralità che ci dia una maggior probabilità di stare nel giusto perché già ritenere già ritenere che sia incauto ragionare in termini metafisici che sia più pragmatico ragionare solo sul mondo della nostra esperienza significa presupporre degli aspetti metafisici lì sì in modo incauto che potrebbero portare a ragionare in modo fallace e potrebbero portare anche a regolarsi male poi nel rapporto epistemico col mondo perché perché se si si assumesse un'idea sbagliata un insieme di presupposti sbagliati che ad esempio riguardano il nichilismo il divenire nichilistico poi anche la lettura del mondo sarebbe furviata da quei presupposti per esempio dico solo un esempio il concetto di causa è profondamente nichilistico soprattutto l'idea di causa fisica l'idea che una causa produca un effetto implica delle dinamiche nichilistiche non sto qui a rispiegarlo ho fatto dei video dettagliati dove ne ho parlato e questo però potrebbe portare a interpretare il mondo nei suoi rapporti in modo errato rispetto a quello che sarebbe e a come potrei dire a non cogliere possibili altre forme di collegamento di rapporti che invece potrebbero essere concreti ma essere relegati all'ambito della fantasia e dopo cercherò di spiegarmi meglio il concetto di causa non è evidente non è evidente che una causa produca un effetto l'unica cosa che dovrebbe supportare ciò sarebbe la regolarità costante il fatto che dall'evento A segua temporalmente B e che non ci siano altri fattori concomitanti dovrebbe essere il motivo per cui si vada a concepire A come causa di B tuttavia che questa regolarità si dia non dimostra che A causi B perché potrebbe esserci semplicemente una connessione tra quei due eventi senza che però sia l'evento A creare l'effetto B ma essere congiunto come se fosse la causa senza però esserlo potrebbe esserci una causa trascendente rispetto ad A e B che collega A e B simulando che sia A la causa di B oppure potrebbe non esserci una causa trascendente ma esserci una connessione determinata necessaria del rapporto tra A e B in modo che B segua sempre ad A simulando la regolarità empirica della causalità di B A B